Di Marco Benazzi, un formaggino milcana super crema. Qui, ai pensionati che desiderano continuare ad avere un ruolo primario nella disumana scala gerarchica dell'utilità, si propone di diventare guide di vita per passeggeri da autobus, treni o metropolitane liberi di raccontare raccontandosi, con aneddoti per lo più legati ai luoghi toccati dalla linea che si sta percorrendo. I passeggeri di un qualunque mezzo pubblico, provare per credere, passano il tempo a sparlare dei nostri servizi pubblici, tessendo lodi sperticate nei confronti di quelli dei paesi confinanti. Questo li fa sentire fieri d'avere infierito sui potenti, anche se solo per il tratto porta santi case finali. L'impotenza che cerca sfogo contro la potenza spesso lascia l'amaro in bocca. Se si potessero affrontare argomenti di conversazione dettati da ricordi di vita vissuta da chi quel percorso lo ha fatto durante un bombardamento, una manifestazione o anche solo un'abbondante nevicata a primavera inoltrata, il risultato sarebbe quello di tenere viva la memoria del paese, quella che muore con noi e che permetterebbe invece alle generazioni a venire di risvegliare il passato dormiente del microcosmo legato al nostro cuore. Questo succede nel paese chiamato Speranza.